Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore Bene ragazzi, in questo video vediamo com'è fatta e parliamo anche di quanto vale la banconota dedicata a Galileo Galilei Si tratta di una bellissima banconota che in tanti hanno però dimenticato Ho visto che la maggior parte delle persone si ricorda della banconota da 2000 lire dedicata a Guglielmo Marconi In tanti invece hanno dimenticato quest'altra bellissima banconota dedicata a Galileo Galilei Probabilmente perché è un po' più vecchiotta e quindi se la ricorderanno meno persone Vediamo subito come è fatta Nella parte principale troviamo logicamente il busto di Galileo Galilei Sul lato destro troviamo la scritta Banca d'Italia, le firme del governatore e del cassiere Poi quelli che sono il Duomo e la Torre di Pisa Ancora più in basso troviamo il logo di San Marco con le Repubbliche Marinare Sul lato sinistro invece troviamo quella che è la lampada di Galileo Mentre in filigrana, ho già fatto delle prove prima, non riesco a farvelo vedere Probabilmente si intravede una sagoma Contro luce si riesce a vedere meglio e qui praticamente va a comparire quello che è il volto di Evangelista Torricelli Uno dei più importanti discepoli di Galileo Galilei Abbiamo poi il valore nominale scritto in lettere e più si intravede anche in cifre E poi abbiamo la scritta pagabile a vista al portatore e il numero di serie Il numero di serie è molto importante per capire quello che è il valore della nostra banconota Lo ritroviamo anche qui Ruotiamo la nostra banconota e vediamo cosa abbiamo dall'altro lato Scritta in alto sul lato destro Banca d'Italia Sul lato sinistro abbiamo invece l'IRE 2000-2000 scritto in cifre Poi la solita scritta, la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi Qui sul lato destro abbiamo quello che è l'osservatorio astronomico di Ercetri Mentre sul lato sinistro in alto abbiamo dei segni zodiacali Altra cosa importante per capire qual è il valore della nostra banconota è quello che c'è scritto qui Quindi il valore della banconota possiamo identificarlo sia dal numero di serie Che si presenta su questo lato della banconota Ma più facilmente senza scervellarci in questo caso possiamo trovarlo anche tramite questa scritta Qui abbiamo decreto ministeriale 24 ottobre 1983 e 10 settembre 1973 Allora come facciamo a capire di che anno è la nostra banconota? Queste banconote sono state stampate nel 1973, 1976 e 1983 Se qui viene riportata due volte la data 1973 L'anno 1973 logicamente significa che la banconota è del 1973 Per gli anni a seguire nella seconda parte viene riportato sempre 1973 Ma quello che cambia è il primo anno Quindi 1973, 1973 la banconota è del 73 Se qui invece abbiamo 1976 la banconota è del 76 Se abbiamo 1983 come nel mio caso la banconota è del 1983 Vi sto facendo questa piccola filippica perché? Perché questo è importante per capire di che anno è la vostra banconota E questo è uno dei fattori che ci aiuta a capire meglio qual è il valore della banconota Ho preparato come faccio spesso un bigliettino Andiamo a vedere qual è il valore ipotetico della nostra banconota Allora 2000 lire Galileo Galilei Attenzione le quotazioni che trovate qui su questo biglietto e anche sul retro Sono praticamente per le banconote FDS Ovvero Fior di Stampa Cosa significa? Significa che per valere queste cifre Così tanto in alcuni casi Soprattutto quelli che ci sono dietro Sono dei casi specifici Non chiudere il video vedendo qui perché dietro ci sono i valori più importanti FDS significa che la banconota è perfetta È praticamente nuova Come se fosse appena stata stampata Quindi non presenta segni, non presenta macchie, non presenta scritte, non presenta strappi Perfetta Nessuna piega, nulla Se la banconota non è FDS, non è Fior di Stampa Le quotazioni non sono queste ma sono molto molto inferiori In alcuni casi addirittura potrebbero valere un euro o ancora meno Ti faccio un esempio La serie ordinaria Perché dietro poi abbiamo le sostitutive La serie ordinaria che ha un valore maggiore E' quella del 1973 Che si chiama Prima Serie Prima Serie perché praticamente appartengono tutte le prime banconote che sono state stampate Ed hanno un seriale che inizia con AA E termina con la A Attenzione deve anche terminare con la lettera A Altrimenti non appartiene alla Prima Serie In quel caso una banconota da 2000 lire Galileo Galilei Può arrivare a valere fino a 150 euro Quindi 150 euro è il valore di mercato di una banconota in Fior di Stampa Se non è in Fior di Stampa il valore cambia tantissimo Potrebbe valere alla peggio diciamo una ventina di euro Poi migliore la conservazione e più è alto il valore fino ad arrivare diciamo a questo Tutte le altre banconote del 1973 che non rientrano in questo seriale Quindi dovrebbero avere AA e poi l'ultimo ancora A Hanno questo valore Se invece sono del 1973 Ti ho fatto vedere la data si vede dietro Ma non hanno questo seriale Hanno un valore massimo di 15 euro Ma se la tua banconota è messa male Vale tranquillamente un euro Difficilmente vale di più Hanno 1976 Valore massimo in Fior di Stampa 10 euro Hanno 1983 Valore massimo in Fior di Stampa 7 euro Quindi capisci bene che una banconota del 83 Come quella che ho io Se in Fior di Stampa vale 7 euro In queste condizioni viene venduta 1 massimo 2 euro Non ha un valore superiore Se invece fosse stata a Fior di Stampa Sarebbe comunque potuta vendere diciamo a 7 euro Notiamo il nostro bigliettino con le banconote Qui troviamo valori esagerati Perché? Perché appartengono alle banconote delle serie sostitutive Cosa significa? Le serie sostitutive sono praticamente quelle serie che venivano stampate Quando venivano raccolti un tot biglietti Un tot banconote per andarle poi a sostituire Non so magari venivano portate in banca delle banconote che erano troppo usurate Venivano ritirate dal mercato e si stampavano altre tante banconote Che andavano appunto a sostituire quelle che erano state ritirate Quindi qui non ci interessa più l'anno di stampa Ma ci interessa soltanto il numero di serie Se il numero di serie corrisponde a XA E poi dobbiamo vedere praticamente la prima parte XA e l'ultima lettera I valori ragazzi sono questi Se terminano con A, B, C e D Le quotazioni sono 300, 600, 500 E l'ultima 20 euro Attenzione questi sono sempre i valori in fior di stampa Quindi da prendere con le pinze Perché se la tua banconote è perfetta Riesci facilmente a realizzare queste somme Ma se non è perfetta Le somme si abbassano notevolmente Puoi mettere il video in pausa Nel momento in cui preferisci Per andare a leggere con calma il bigliettino Io con questo credo di aver detto tutto Ho sempre i limiti degli 8 minuti quando vado a registrare Quindi ragazzi devo essere super veloce Perché gli 8 minuti stanno terminando Ricordate di cliccare un bel mi piace Potete scrivere nei commenti dubbi e domande Ciao